Dopo le prime esperienze musicali in gruppi che si rifanno alla scena new wave inglese della fine degli anni 70, assieme al fratello Gabriele, a Tony Carbone e a Mario Venuti inizia nel 1982 l'avventura dei De Novo un gruppo che propone Alla scena musicale un diverso approccio nello scenario della nuova musica italiana post-cantautorale, frutto di una lettura melodica e mediterranea delle influenze pop-rock anglosassoni Il sodalizio artistico tra i quattro dura meno di un decennio e, nel 1990, con all'attivo quattro album, un EP, centinaia di concerti e consensi di pubblico e critica Decide di porre fine all'esperienza dei De Novo per intraprendere la carriera solista Incide così i primi lavori a suo nome Prima Passioni e Manie, 1991 Poi Bambolina, 1993 E Moto Perpetuo, 1994 Tre album subito apprezzati dalla critica Che indica in lui uno dei cantautori più interessanti e promettenti del pop italiano Che tuttavia non ottengono il successo di pubblico auspicato dalle case discografiche Progressivamente, complice la scarsa programmazione radiofonica La musica di Luca scompare dalla scena Grazie a tutti Inse membri